Buonasera, un saluto agli amici e amiche di Playstube Siena. Siamo in diretta davanti al Meatlife Caffè a Siena. Sta iniziando a venire giù qualche gocciolina, quindi saremo velocissimi. Allora, vi presento Irene e Francesco. Perché siamo qua? Ve lo devo spiegare, perché qua accadono che tutte le settimane, il mercoledì, ci sono delle mostre d'arte e delle degustazioni divini. Quindi questa sera c'è la mostra di Irene, che è particolare perché ha fatto un giro non solo per le nostre campagne, i nostri territori, ma anche in giro per il mondo. E tu abbini la fotografia dei paesaggi alle persone. Ecco, io in particolare vi farei vedere questa foto qua in partenza, speriamo la metà a fuoco. Ecco, ti chiederei, Irene, cosa rappresenta questa foto? Dove ti trovavi in questo momento? Allora, questa era una foto che ho fatto ad una mia amica. In realtà avevo voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, perciò l'ho presa e l'ho portata fuori nelle campagne di casa sua. Lei stava a Pianella e abbiamo trovato questa villa abbandonata che è stata la perfetta location per lo shooting. Ecco, infatti volevo far vedere anche l'altra immagine, invece che è un primo piano sempre della solita modella e tu mi hai raccontato nel dietro dei quinte che ti occupi anche del costume, quindi della parte appunto della corona di fiori, anche del trucco, dell'abbigliamento, giusto? Sì, esatto. In questo caso mi sono occupata sia del make-up, della costruzione della coroncina di fiori, comunque avevo un'idea in mente, quindi ho cercato di realizzarla al 100%. In più avevo questo bellissimo vestito che mi è stato imprestato da una stilista ucraina che appunto lei lavora per i matrimoni, ho deciso di sfruttarlo anche per esercitarmi e per sperimentare qualcosa di nuovo e non dedicarmi soltanto a paesaggi. Però stessa è andata anche oltre perché qua ti trovi in una villa abbandonata, giusto? Sì, esatto, è abbandonata. A Pianella. A Pianella. Nelle nostre zone, è la nostra provincia di Siena, è la nostra bellissima provincia. Sì, sì, è bellissima. Però hai fatto anche altri giri, in giro per il mondo, in particolare questa è una foto del Grand Canyon, facciamola vedere. Ah, scusami, Route 66, vabbè, è un villaggio western abbandonato si può dire, giusto? Sì, è il tipico villaggio western che si può trovare anche, non so, come quelli che si vedono nei film, è abbandonato, è in un pezzo della Route 66 non proprio bellissimo, infatti è anche un pochino difficile arrivarci e non ci abita nessuno, è pieno di ciuchini che stanno per la strada, anzi. E chiedono passaggi. Sì, esatto, hanno cercato di entrare nel furgone, però... Ma si trovano anche personaggi di questo tipo qua, ecco, facciamola mettere a fuoco, personaggi rustici tra l'altro, direi, che non si vogliono far fotografare. Come hai fatto a fotografare? Eh, allora, ho aspettato che fosse distratto, era l'ingresso di una vecchia miniera, appunto, per far vedere come erano gli ingressi delle miniere, chiaramente, del selvaggio west e, niente, mentre era distratto con altri clienti, ho preso una macchina fotografica e ho cercato di cogliere l'attimo. È stata velocissima. E l'ultima foto, molto particolare, mi ha colpito molto, vi faccio vedere, prima il personaggio che tu hai ritratto, che è questo signore qua, vediamo un po' se... ecco, vi do il tempo di guardarlo bene e poi faccio passare la seconda immagine che è questa qua. Vediamo un po' qual è l'abbinamento tra l'immagine dell'uomo e l'immagine del paesaggio che hai ritratto. Sì, allora, in questo caso mi trovavo a San Francisco e l'uomo ritratto era in un bar. La cosa, vabbè, chiaramente, oltre ad avermi colpito il suo aspetto estetico, il suo sguardo, mi ha colpito perché lui sul tavolo stava dipingendo, praticamente aveva tanti acquerelli a cui lui stava lavorando. Dopo aver scattato la foto ho avuto modo di parlarci, lui, tipico americano di San Francisco, chiaramente. Ma la particolarità era che... Era che ci ha chiesto di dove eravamo e noi siamo di Siena, in Toscana, no, davvero, e ci ha fatto vedere un acquerello di San Gimignano. Lui stava dipingendo San Gimignano a San Francisco. Sì, esatto, e lui voleva tanto andare a San Gimignano non potendoci andare la dipinta. Quanto è piccolo il mondo, mi verrebbe da dire. Piccolissimo, minuscolo. Allora, Francesco, intanto ti chiederei a avvicinarti un po', rimani pure nel mezzo, ecco. Francesco Narni Mancinelli si occupa dell'organizzazione degli eventi al Meat Life Café ogni mercoledì, Meat, Art & Wine, quindi si parla di arte e di vino. Infatti l'arte è qua, il vino. Il vino, come fate a scegliere il vino, come fate a scegliere l'arte? Senti, abbiamo una selezione che parte dal nostro, diciamo, capo vini, Francesco, che è il proprietario e ormai da sei anni sta dietro a vari fornitori regionali, nazionali, internazionali. Quindi nel senso, alla fine si è fatto una grande esperienza, poi lui ha lavorato nel settore anche da più di quando ha aperto questo bar. Quindi diciamo che viene fatta una selezione specifica per quella che è poi la domanda che ci viene fatta in questo bar e proviamo a abbinarla a delle persone come Irene o anche degli artisti di pittura o anche a delle presentazioni di qualche libro, insomma, all'arte a 360 gradi, ecco, tanto per non rimanere settorizzati solo in un unico target, ecco. Si può provare un po', diciamo, una emozione in piccolo, se si vuole, di andare a una degustazione, a un festival del vino? Sì, è un piccolo, io la vedo così, è un piccolo staccarsi dalla routine, probabilmente da una città piccola, anche se città e piccole insieme non vanno molto bene e ci si avventura... Siena alla fine. Sì, ci si avventura negli odori e nei gusti magari di qualche posto lontano e magari con gli occhi guardando una fotografia invece di un quadro si parte con l'immaginazione per arrivare chissà dove. E' come staccare e farsi un viaggio nel tempo di un aperitivo. Quanto tempo è che va avanti qua, raccontiamolo? Meat Tart & Wine è un, diciamo, un format che ormai va avanti a tre anni, a quattro anni, nato dalle scenerie del Wednesday Aesthetic, che era ancora prima l'evento del mercoledì del Meat Life, ha avuto vali collaborazioni, anche con la Worli, che ringraziamo anche stasera. E il Presto Bissiena, tra l'altro, per cui sono partner di Presto Bissiena e siamo qua a riportare quello che loro fanno. E quindi nel senso, piano piano, e sempre fa piacere che tutti i mesi, anzi, anche con molto anticipo, le persone si propongano e gli faccia sempre più piacere, sempre persone nuove, di confrontarsi con la loro passione e mostrarla verso l'esterno. Allora, io ringrazio Irene e Francesco, ringrazio voi che ci avete seguito in diretta, come sempre, su Presto Bissiena. Vi invito non solo a frequentare il Meat Life Caffè, tutti i giorni, chiaramente, perché è aperto tutti i giorni, ma anche venite, ecco, Irene, che vi invita, ma anche negli altri giorni, chiaramente, oltre al mercoledì, è un locale molto frequentato da giovani, anche da persone più grandi, molto giovani, molti studenti, e vi invito anche a seguire Presto Bissiena, chiaramente, perché non parla solo di Meat Life, parla anche tanto di Meat Life, ma anche di tanti altri bei locali e posti da visitare a Siena e provincia che Irene, con i suoi scatti, fotografa e vi riporta. Per cui, grazie a voi e grazie a voi. Ciao.